Mi sono fidanzato con una ragazza francese, proprio di lì, l'ho conquistata sapendo che è Francia, un posto romantico, così l'ho voluta conquistare con una poesia di Prevero. Ah, che bello. Se posso, è brevissima. Prego, ce la reciti. Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte, il primo per vedere tutto il tuo viso, il secondo per vederti gli occhi, l'ultimo per vedere la tua bocca e tutto il buio per ricordarmi di queste cose mentre ti stringo fra le braccia. Beh, va bene, la poesia. Mamma mia. Eh, ma deve essere stato un momento veramente molto toccante. E lei cosa ha risposto alla ragazza? Cosa ha risposto alla ragazza? Ah, lei ha detto, Sherry, se sono secondo me, come? Non ho capito. Sherry? Sì, Sherry, bene. Se sono secondo me, come? Non ho capito. Ebbene, anche loro, forse c'è un problema, non so se c'è un problema dato, se ci può dire cosa ha detto la ragazza dopo la poesia. Ciccio, sono 50 euro comunque! Mi abbracci forte, mi abbracci forte! Mi abbracci forte, mi abbracci forte, mi abbracci forte. Grazie a tutti.